Ciao a tutti da Piorola Francesca. Oggi vi parlo di una cosa un po' particolare. Qualcuno le riconoscerà appena le vede. Copremo il nome. La riconoscete? 45 centesimi. Luna. In Italia 4-5 euro. 6 euro. Cazzo c'è una mafia dietro. Sì c'è una mafia. Queste qua. Comprate in Germania. Qua il nome non ve lo copro. Ve lo faccio vedere. Queste qua sapete quanto costano? Guardatevi la foto. Avete vista? 4 euro e 60. Cazzo va. In Italia 5 euro. 6 euro. La differenza è di un euro. Sono più care di un euro. Non di 10 volte il prezzo. Non come queste. Che hanno 10 volte il prezzo inferiore a queste. Perché questa differenza? Perché? Perché è semplice. Ho finito di stare un po'... Di non stare molto bene. Sono andato all'ogno medico. Ho detto chiaramente. Penso di avere un calo vitaminico. Ho preso del multivitaminico. Vorrei sapere se potrebbe essere quello. Quello mi ha detto. A parte il fatto che abbiamo fatto l'esame di sangue. Non prenda niente perché prima facciamo i controlli. Logicamente. Perché c'è gente che ha studiato per pensare alla vostra salute. Quindi cosa fanno? Facciamo i controlli. Esami di sangue. Di routine. Fanno no. Non ha mancanza di vitamine. E io ho pensato. Grazie a sto cazzo. Io ho un'alimentazione alquanto corretta. Quindi non mi manca verdura. Frutta. Non mi manca. Non mi faccio mancare la carne. Non mi faccio mancare la pasta. Quindi carboidrati. Ho tutto sotto controllo. Sotto controllo. Insomma. Abbastanza. Mangio abbastanza ordinatamente. Faccio un buon riposo. Riposo nel pomeriggio. Faccio i pasti giusti. Insomma. Il quantitativo di pasti giusti. Quindi è abbastanza una vita regolare. Nonostante il lavoro di merda che faccio. Ha detto. Lei non ha nessuna carenza di vitamine. Quindi. Non ne prenda. Soprattutto. Soprattutto. Non prenda quella merda. Questa merda. Me la stava buttando. Ve lo giuro. Me la stava buttando. 45 centesimi. Lui me la stava buttando. Sa perché? Mi ha detto. Non deve prendere quella merda. Perché questa roba qua. Ha un effetto placebo. Molto blando. Quasi inesistente. Fa lei prima di comprare la roba. Ma lei legge le cose. Ha fatto pure la figura di merda con il mio medico. Ma c'è perché? Scusi. 20 tablette. C'è 20 capsule. 86 mg. Ok. 1 mg di vitamina B1. 1 mg di vitamina B2. 16 mg N. Di Niacin. Pantozoire. Non so cosa sia. 6 mg. Vitamina B6 1,4 mg. Folzoire 200 UG. E via dicendo. Leggiamo questi. Questo è il magnesio. Quindi il magnesio. 245 mg. 20 tablette. 90 mg. Ok. 20 capsule. Per 90 mg. In tutto. 245 mg. E non 1. Non 1 mg. 245. Di calcio. Di magnesio. Scusate. 400 mg di calcio. 5 UG di vitamina D3. E 37 mg di vitamina C. Non 1 mg. Capite? La differenza? Questa è un dosaggio ancora al di sotto del normale. Ma comunque più vicino a un dosaggio normale. Questo è un sottodosaggio. Cosa vuol dire? Che questo ha effettivamente un effetto placebo. E basta. Vi stanno vendendo. Vi stanno vendendo. Per 45 centesimi. Aria fritta. E come dire che voi avete mal di testa. Avete mal ai piedi. Avete le unghie incarnate. Prendiamo l'aspirina. L'aspirina cura tutto. L'aspirina è un medicinale. Ma non cura tutto. Curiamo tutto con un bicchier d'acqua e l'aspirina. In questo caso un bicchier d'acqua e un po' di vitamine. Che vitamine? Non lo sono. Perché sono a effetto placebo. Effetto placebo. Quindi io quello che mi sento di dire è se vi sentite stanchi, spossati, che vi sentite in qualche modo strani, insomma appesantiti, che avete il sospetto che può esserci una mancanza di vitamina nel vostro corpo, quello che mi sento di dirvi è non fatevi le cure fai da te. Perché? Perché le cure fai da te portano a malanni. Ok? Queste sono vitamine. Ma un sovrallosaggio o un sottolosaggio potrebbe procurarvi dei danni seri al fisico. Quindi si va dal medico, si fanno gli esami del sangue, con gli esami del sangue si va, con gli esami del sangue il medico vi dirà quale tipo di vitamina vi manca, se vi manca, se vi manca, andate in farmacia e vi comprate le vitamine che stanno qui in farmacia 7, 8, 9, 11 euro. Fino a 11, 12 euro. Non 45 centesimi. Fino a 12 euro, qui in Germania, in farmacia, in apoteca. Quindi non fatevi prendere per il culo. Questo vi dico. La salute è la vostra. C'è gente che ha studiato per dirvi se state bene, se state male, se di cosa avete bisogno. È chiaro? Dietro questa roba c'è una mafia incredibile. Quindi cosa succede? Vi convincono che voi siete stanchi perché avete una carenza di vitamina B, una carenza di vitamina C. Prendo questa e risolvo tutto. Prendi questa e lo risolvi un cazzo. Quindi vi intablettano, vi riempiono le pastiglie. Innocue. Perché queste, innocue, poi bisogna vedere quanto. Innocue perché non vi fanno niente. Questa roba qui non vi fa niente. Non vi fa niente. Vi rendono malati e non vi curano. Vi danno dei placebo. Tutto qua. Questa è la mafia che c'è dietro. La mafia non è chiedersi perché queste costino 5,60 euro e queste costino soltanto 45 centesimi. La mafia non è perché queste sono care. La mafia è chiedersi perché queste costano 45 centesimi. Invece di costare 5 euro, 6 euro, 7 euro. La foto l'avete vista? Ve la rimetto? Riguardatevi la foto. Quindi, mi sembra chiaro, mi sembra chiaro che la mafia è sì dietro i medicinali, perché questi sono medicinali ragazzi, vedete come volete, sono medicinali, con le medicine non si scherza. La mafia è dietro i medicinali, anche dietro quelli. Ma soprattutto dietro questi, soprattutto dietro questi c'è una mafia. Una mafia farmaceutica. Quindi, usate il cervello. E un consiglio, usatelo un po' di magnesio, che male non vi fa, così magari cominciate a ragionare. Ciao a tutti, da Piero e da Francesca e mi raccomando, usate sempre il cervello. Vi ricordo qui sotto i miei social e ci si vede sui miei social. Ciao a tutti.